Mentre stavamo montando la prima puntata della serie I Sette Diritti Capitali, promossa dall'Università per la Pace di Roma insieme all'area Radio Televisione Europea Associata, è scoppiata la pandemia del coronavirus. Rispettosi delle indicazioni date dal governo, abbiamo deciso di non coinvolgere altre persone in studio. Quindi, sia io che Enea Franza, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche, abbiamo deciso di presentare e commentare questa prima puntata restando disciplinatamente a casa nostra. Ma prima di dare il via ai vari filmati, vorrei precisare che la tragica vicenda del virus ha incrementato in tutti noi la consapevolezza che bisogna assolutamente rafforzare lo stato sociale, non solo in Italia, ma in tutto il mondo.